Il Palermo perde sul terreno veramente in condizioni pessime di Pisa, il Palermo è battuto per 2 a 0, realizza il primo gol Bergamaschi, vedete l'azione confusa, Bergamaschi si impossessa di un pallone a tre quarti di campo, resiste a una serie di cariche, vince una serie di contrasti, continua praticamente da solo e poi con un gran diagonale realizza il gol dell'1 a 0. Il terreno è ai limiti veramente della praticabilità, continua a piovere, continua ad attaccare il Pisa che va ancora in gol con Cantarutti che di testa va meglio di tutti in alto, riesce a battere il portiere avversario.